È stata una bellissima esperienza, la consiglio a chiunque voglia migliorare le sue abilità nella pallamano. Spero che questo tempo si rifaccia in futuro perché è stato molto bello. Ho fatto degli esercizi nuovi, comunque è stato difficile perché sono più allenamenti al giorno. Ho conosciuto nuovi giocatori di pallamano che anche sovranno a livello e mi sento molto migliorato rispetto a come hai mostrato il camp. È stata un'esperienza molto bella, ho conosciuto nuovi ragazzi di pallamano e ho fatto molti esercizi che non conoscevo e la consiglio per chiunque vuole migliorare il suo livello tecnico. È stata un'esperienza molto bella, ho conosciuto i miei amici, mi sono divertito molto e ho imparato nuove tecniche di tiro che mi sperano migliorare. È stata una bella esperienza, ho imparato nuove tecniche di tiro anche dall'ala e cercherò di metterle in campo e di migliorare su queste cose sempre per fare meglio. Ho partecipato a questo camp estivo dove ho conosciuto molti amici, ho imparato nuove tecniche di parata che utilizzerò soprattutto il campionato e spero di rifare questo camp. È stata una bella esperienza in questo camp. Gli ultimi due giorni abbiamo avuto anche la possibilità nei quartieri di allenarci con Vito Kobe che per varie ore ci ha allenato. Sono stato molto onorato di partecipare a questo camp perché soprattutto ho avuto l'onore di incontrare nuovi compagni di gioco, di studiare altre squadre, di altri società su tutto del nord che mi hanno permesso di migliorarmi in forza soprattutto ma anche a livello umano. Negli ultimi giorni ho avuto l'onore di allenarmi insieme a Vito Kobe che per me è stato un grande onore in quanto è uno dei migliori portieri in circolazione e grazie a lui ho imparato nuove tecniche di allenamento ma anche di parata e posso utilizzare benissimo nel mio club, nelle partite ufficiali ma anche in allenamento. È stata una bellissima esperienza. Ho avuto modo di conoscere nuove persone, di fare amicizia. Ho imparato varie tecniche di tiro, nuovi modi di allenamento, edo di allenamento. Questa è stata una bella esperienza. Mi sono divertito molto sia in campo che in albergo. Ho imparato nuove cose, anche se siamo a casa in albergo con la mezza. E spero di essere provato in futuro. È stato un bel camp, mi sono divertito molto. Ho avuto l'occasione di conoscere nuove persone. Lo consiglio ad altri ragazzi della mia età. Ho imparato molte cose nuove che spero possano essermi utili nel corso della mia età. Questa settimana a Chieti, secondo me, è stata molto interessante. Ho imparato cose nuove e abbiamo avuto il modo di migliorare quelle che già sapevamo. Sarà molto importante per il resto della mia carriera. Spero di continuare a far parte di questo gruppo. Mi diverte molto e sono contento di farne parte. Ho desiderato partecipare a questo progetto perché gli allenatori mi hanno aiutato a comprendere cose nuove e mi hanno insegnato tecniche nuove di tiro e di difesa che mi aiuteranno molto nella mia carriera da pallamanista. Mi consiglio questo campus a tutti i giocatori di pallamano perché aiuta molto a crescere. Sì, ma qui ci sono dei tagli. Sì, ma qui ci sono dei tagli.